Ah, la Merkel! No, Hillary Clinton. Ah, giusto. È antica, antica, vedi, lei vuole dare un'immagine del perbenismo dell'americana. Anche nell'abbigliamento, dici tu, è antica. Sì, si vede, la suora, guarda. E nove donne invece hanno affermato di aver subito delle palpazioni senza consenso. Io non conosco queste persone. Ma tu ci credi? Ma un uomo di potere ha bisogno di stuzzicare una donna, ma questo c'ha l'America nelle mani, tesoro. Ci sono donne che hanno confermato che lui ha fatto queste cose. Perché non le arrestano? Perché non gli fanno niente? Cosa è intoccabile? Nessuno rispetta le donne come le rispetto io. Nessuno! Prego, silenzio in sala. Ha i neuroni offuscati dal parrucchino. Ma no, secondo me il parrucchino entra direttamente nei neuroni. Sì, è estremamente connesso. È instillato. Eccola Mosca. Secondo me è Trump che attira le mosche. Sono due. Ma è Trump che attira le mosche. Io non volevo dire però... Quando ho iniziato lui a parlare... Ha detto che lui non avrebbe mai potuto fare queste cose, queste donne, perché non erano abbastanza belle. No, non l'ho detto. Non l'ho detto. Ma lei si ricorda cosa ha fatto suo marito? O se l'è dimenticato? Lui ha avuto una piccola scivolata. Ah certo, si chiama scivolata? Quella del sottoscrivania. Da tre ore che dice sempre che lui è andato con le donne. Che deve andare con gli uomini?